Il Comitato di lotta per la casa Il Segretario Riva in merito al piano casa e all'articolo 5 non poteva essere più scontata e banale. Si parla di cifre e di finanziamenti che a tutto servono tranne che contrastare realmente l'emergenza abitativa sia a livello locale che nazionale. Il vero dato su cui ragionare deve essere il numero degli sfratti per morosità incolpevole, 200.000 tra il 2011 e il 2013 e quindi il numero delle famiglie che in seguito alla perdita del lavoro non possono più permettersi di pagare un affitto che hanno sempre onorato. E il Fondo per la morosità incolpevole, ovvero il 90% degli sfrattati, in questo senso rappresenta solo delle briciole. Ma serve creare un piano che blocchi l'emergenza abitativa, quindi bloccare gli sfratti che sono continuamente in aumento, rilanciare il patrimonio pubblico, visto che è in continuo svantellamento e in questi giorni c'è stato il decreto attuativo che permette la vendita delle case popolari, finanziare l'autorecupero, la requisizione dello sfitto. Ci sono tutta una serie di provvedimenti che possono essere applicati che non vengono applicati, mentre sì, si spendono soldi solo per far finta di affrontare un'emergenza che è una delle più grosse emergenze del Paese. Tornando alla risposta di Riva, ci è già sembrato assurdo che un segretario provinciale non avesse ancora letto un decreto legge, emanato tra l'altro a marzo di quest'anno 2014, che incide realmente sulle vite delle persone. Ma ancora più assurdo è la banalizzazione dell'articolo 5 del piano casa, che nega utenze e residenze e di conseguenza l'accesso al medico di base e all'istruzione. Se le politiche abitative continueranno ad andare nella direzione di negare il diritto alla casa, ci vedremo costretti a prendere casa nella loro sede. Il segretario Riva citava che la mancanza della residenza non nega una serie di diritti, quali l'andare a scuola, quali il medico di base. Beh, io non so se il segretario Riva abbia mai provato a iscrivere un proprio figlio o comunque un minore a una scuola pubblica. La risposta che gli verrà data, in caso ci dovesse provare, è prima diamo spazio ai residenti, poi ai residenti in altri comuni e poi forse se c'è posto a coloro che non hanno residenza. Diciamo che i media, sia locali che nazionali, fanno troppo un comodo uso di questo termine, dei centri sociali. Gli anni sono passati, esistono i centri sociali ma esistono anche le persone che si auto-organizzano, affrontano i propri problemi quotidiani e si danno delle risposte in modo autonomo. Esistono i movimenti di lotta per la casa, i movimenti in difesa del territorio, i movimenti che lottano per un lavoro degnitoso e quindi sembra banale e scontato e quindi troppo facile per i media utilizzare termini che poi attaccano molto di più sulla gente. Pregherei, a nome del comitato e a nome di tutti i movimenti di lotta per la casa, pregherei il segretario del PD di informarsi e di non dire cose che poi si riflettono sulla vita della gente. Grazie a tutti.